Servizio straordinario di controllo del territorio ieri da parte dei carabinieri della Compagnia di Licata e della Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione Sicilia di Palermo. L'attività, finalizzata a setacciare luoghi maggiormente frequentati da pregiudicati o comunque da persone sospettate, ha consentito di controllare 53 persone e 36 veicoli. Sono state controllate 12 persone destinatarie della misura cautelare degli arresti domiciliari e della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, accertate e contestate 12 contravvenzioni al codice della strada per un importo di circa 1200 euro. Tre perquisizioni personali e veicolari eseguite, sette ciclomotori sono stati sottoposti a fermo amministrativo in quanto il conducente non indossava il casco e due di questi ciclomotori sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre l'attività dei carabinieri ha permesso di ritirare sette carte di circolazione per infrazioni al codice della strada. Nello stesso contesto sono state arrestate due persone poiché resesi responsabili di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e guida senza patente perché revocata o mai conseguita. Nello specifico è stato arrestato Giuseppe Chiazza di 44 anni di Palma di Montechiaro pregiudicato per reati di stampo mafioso poiché sorpreso alla guida di un maxi scooter senza patente perché revocata nonostante dovesse rimanere a Palma. L'arrestato una volta espletati gli adempimenti di rito è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.